Siamo arrivati alla conclusione, siamo in attesa che arrivano i primi dati, siamo qua in sede al comitato elettorale di Catano De Luca Sindaco e siamo ottimisti noi sul risultato perché abbiamo lavorato bene in questi mesi di campagna del Parano. Quindi adesso aspettiamo i dati reali e vediamo cosa verrà fuori. In ogni caso resta altro l'ottimismo perché il nostro lavoro secondo noi è stato recepito bene dalla città di Messina. E dov'è De Luca in questo momento? In questo momento è in chiesa, lui è un uomo di grande fede, ha sempre lui atteso i risultati elettorali e pregando e quindi sicuramente verrà al comitato appena avremo i dati definitivi.